allora procediamo in questo modo entrate tutti all'interno del vostro podcast nella pagina di creazione del vostro podcast questa è la struttura quindi avete la cover e poi c'è il titolo la spiegazione e così via il podcast come vi ho spiegato l'altra volta il termine podcast viene usato purtroppo sia per indicare l'insieme delle trasmissioni che ciascuna singola trasmissione noi però manteniamo questa distinzione per cui chiamiamo podcast la struttura della vostra opera e trasmissione invece ogni singolo episodio che carichiamo dunque col tasto più qui potete caricare il primo episodio note sull'episodio scriviamo semplicemente qualcosa che dice che è una è una prima prova per caricare un mp3 qualcosa del genere poi numero stagione e numero episodio numero stagione significa che all'interno del vostro podcast voi potrete decidere di pubblicare delle stagioni differenti che per esempio hanno a che fare con tematiche anche differenti dunque dovete decidere se questo primo episodio che voi avete inserito fa parte di una struttura stagionale o no se fa parte di una struttura stagionale scriviamo stagione 1 numero di episodio 1 oppure vediamo se prende anche 0 come numero no non lo prende lo trasforma in 1 automaticamente quindi 1 e 1 altrimenti guardate qui sotto questa striscia full trailer e bonus full va bene perché abbiamo un episodio completo trasmettiamo una trasmissione completa bonus invece significa che è qualche cosa in più qualche cosa che non è previsto e che noi regaliamo altrimenti e quindi non è conteggiato vedete fa parte della stagione ma come dire è un un allegato un inserto qualcosa in più come in idicola quelle riviste che vi mettono giochino per i bambini perché si avvicina pasqua e c'è la sorpresina per dire la scelta reale che ci interessa in questo momento è tra full e trailer perché potrebbe anche essere un trailer della stagione in corso cioè che stiamo per annunciare creare un trailer è molto utile quando si vuole realizzare una pubblicità del podcast nel periodo precedente la sua uscita quindi attenzione uscirà il podcast e bla bla eccetera eccetera quindi decidete voi senza nessun problema tra full e trailer quale quale utilizzare poi contenuto episodio con contenuto esplicito significa che è un episodio che è chiaramente caratterizzato da scene di violenza molto forti oppure erotiche se non addirittura pornografiche quindi dovete lasciarlo così com'è a meno che qualcuno di voi non abbia una passione particolare quindi allora lo attiverà episodio con contenuto esplicito parole chiave ne provate fate una prova scegliete una parola chiave qualsiasi la aggiungete bene poi ne scegliete un'altra e quando scegliete un'altra ecco quando scegliete un'altra vi si ripropone anche quella precedente cioè funziona così quando poi creerete un altro episodio lo caricherete e farete un click sul riquadro delle parole chiave queste vi appariranno tutte le parole chiave che avete inserito per quel podcast non per quell'episodio per il podcast se aggiungete delle parole chiave diverse a un altro episodio l'applicazione se le ricorda se le ricorda come parole chiave associate in generale a questo podcast quindi basterà semplicemente spuntarle di volta in volta questo è molto comodo tra le parole chiave non inserite nessuna parola chiave oggi adesso non ha nessuna importanza questa cosa perché non abbiamo ancora progettato un titolo argomento eccetera però ricordatevelo non inserite nessuna parola a termine che è già incorporato nel titolo o nella nota dell'episodio nella sua descrizione perché perché all'interno dell'applicazione di divulgazione di podcast tipo spotify apple eccetera sono già comprese nel campi di ricerca i termini che voi avete inserito nel titolo e nella descrizione e quindi trovate degli altri termini più appropriati a questo punto carichiamo il file audio l'operazione molto semplice l'avete fatta decine di volte per altri tanti altri casi ed eccolo qua buongiorno vino salitappo ok salva bozza salva bozza e vi trovate con il primo episodio che è stato inserito a tutti gli effetti nella struttura del podcast ma non è stato ancora pubblicato dovete decidere voi se pubblicarlo meno dunque sì dimmi scusa c'è un limite di peso del dell'audio sì ma è una roba di giga quindi ok alla fine no piuttosto viene consigliato di caricare direttamente un file mp3 un file mp3 a 44 hertz 128 kb di di frequenza di bitrate e ma comunque è uno standard perché in questo caso l'applicazione non deve operare una conversione e dunque il caricamento immediato altrimenti devo operare una conversione perché non è stato ancora pubblicato perché guardate qua avete un programma e quindi la possibilità di decidere quando programmare il podcast cioè quando deve questo episodio deve andare su perché è interessante la programmazione beh perché normalmente questo vale anche quando siete in classe deciderete di dedicare non so un'ora due ore alla creazione di podcast quindi ne create 4 o 5 e a quel punto stabilite la programmazione in serie cioè normalmente i podcast si registrano tutti insieme a blocchi qui voi vedete tra i vari pulsanti che abbiamo pagina web pubblica dunque nel momento in cui voi avete creato il vostro podcast ecco che rss crea automaticamente una landing page che conterà via via tutti i vostri episodi condividi vuol dire che naturalmente avete il link a che cosa avete il link a questo episodio lo potete copiare e incollare sulla vostra pagina facebook e vi apparirà un bel player eccolo qua come questo eccolo come appare questo è il singolo episodio e questo è l'insieme degli episodi naturalmente potete decidere quanti mostrarne perché in questo caso ne abbiamo 50 quindi è chiaro è molto interessante questo player perché lo potete inserire direttamente all'interno di una landing page come si fa da dove lo ricavate lo ricavate da condividi condividi incorpora è un codice di embedding quindi qui a questo punto vedete potete scegliere i colori chiaro scuro scegliere se incorporare anche eventualmente solo l'ultimo episodio oppure tutto lo show tutto lo show significa tutto il podcast e così via questo va copiato e incollato all'interno di una pagina web ma allato html oppure wordpress attraverso un plugin insomma qui questa è un'operazione tecnica però se c'è qualcuno che se ne intende ha capito di cosa sto parlando e chi non se ne intende e ha una sua pagina o deve creare qualcosa per la scuola o che si rivolge all'animatore digitale o tecnico che è in grado di fare questa operazione quello che voi dovete sapere è che potete incorporare il player fino a qui è tutto chiaro? mi voglio riferire a un podcast strutturato perché ci sono delle cose che voi non potete vedere perché non le abbiamo fatte e non le possiamo fare non possiamo fare in modo che questo podcast sia davvero pubblico perché non abbiamo ancora niente quindi non l'abbiamo trasmesso nei canali di distribuzione questo vostro podcast che avete creato con RSS non è realmente condiviso è pubblico all'interno di rss.com e c'è una pagina web ma nessuno la troverà mai non è effettivamente qualche cosa a cui un utente può accedere abbonarsi, iscriversi, ascoltare eccetera perché questo? perché non abbiamo attivato la pubblicazione all'interno delle piattaforme di distribuzione come invece è avvenuto per questo podcast l'America è un paese da svaliggiare allora guardate le differenze tra i pulsantini che avete voi e i pulsantini che ha un podcast pubblicato un podcast che non è ancora pubblicato ha solo due pulsantini a copia e il feed perché il feed RSS è la struttura del podcast è come dire tu hai un'automobile e ti do la possibilità di portarvi al motore il feed è il motore del podcast senza il feed non esisterebbe il podcast invece in un podcast pubblicato abbiamo copia e il feed RSS chiaramente abbiamo sito web e sito web qua non è ancora stato attivato e poi cioè voglio dire non è ancora stato inserito perché il podcast non è ancora stato strutturato completamente poi abbiamo ascolta su se faccio click su ascolta su guardate cosa viene fuori viene fuori Apple Podcast Spotify Amazon Music Pandora eccetera poi possono essercene anche altri cioè vengono fuori le piattaforme attraverso le quali il podcast effettivamente si ascolta cosa che non avete nel vostro perché perché non è stato ancora pubblicato ma voi dite ma com'è prima abbiamo pubblicato un episodio sì avete pubblicato un episodio ma all'interno di questa struttura il podcast non lo conosce nessuno il podcast non è stato ancora inserito nel catalogo di podcast di Spotify o nel catalogo di podcast di Apple Podcast questa è un'operazione che faremo sì questa la faremo alla fine perché per rendere pubblico un podcast chiaramente dovremmo avere qualche cosa di interessante da far ascoltare altrimenti la nostra reputazione scende invece noi la vogliamo far salire però anche se questa operazione la faremo alla fine io vi spiego lo stesso in che cosa consiste quindi dalla pagina di strutturazione del podcast scegliamo la voce qui in alto avete statistiche canali di distribuzione monetizzazione impostazioni cerchiamo la voce canali di distribuzione e guardate che canali di distribuzione ci offre adesso basta scorrere rapidamente ci offre la possibilità di pubblicarlo appunto in spotify amazon music samsung podcast podcast index list e note rss community apple podcast pandora tune in earth radio this eccetera e anche persino youtube perché da poche settimane youtube è compatibile con i feed rss e quindi si possono pubblicare i podcast tra l'altro vi devo dire che rss.com trasforma automaticamente il vostro podcast audio in un podcast video affinché sia pubblicato tramite youtube lo fa attraverso dei trucchetti che però adesso non voglio affrontare adesso e non voglio incasinarvi la vita per il momento ci serve capire come funziona questo sistema monetizzazione è un settore a quale potete dare un'occhiata perché? perché il podcast è un'attività anche commerciale attraverso i podcast si possono guadagnare realizzare dei guadagni quindi qui avete delle opportunità che poi possiamo ritornare ma questo lo vedremo poi magari è l'ultima lezione chi è interessato se avanza un po' di tempo possiamo considerare queste cose guardiamo invece la sezione impostazioni sito web personalizzato vi ricordate quell'icona di cui parlavo prima? possiamo attivarlo però se lo attiviamo dobbiamo inserire la url di un sito di riferimento cioè cosa vuol dire questo? che se io ho un sito che si chiama albertopian.com lo scrivo qui e questo riferimento viene aggiunto al feed rss e quindi automaticamente viene creato il pulsantino che avete visto prima perché? perché io sono albertopian qualcuno vede, capita in quella pagina ci sono gli episodi eccetera e dice ma dove lo trovo albertopian lo trovi lì sito di riferimento e quindi si informerà su chi sono che cosa faccio altri podcast che ho creato e così via questo invece è importante cioè anche con le prime è importante però non tutti hanno un sito web a quale fare riferimento ordinamento episodi ordinamento episodi très important perché? perché l'ordinamento tradizionale degli episodi di podcast è questo parte da dall'ultimo dall'ultima puntata cioè voi visualizzate normalmente l'ultima puntata e poi retrocedete vedete cinque giorni fa tre marzo ventotto febbraio e così via questo è l'ordine naturale di ascolto si parte dall'ultimo episodio e si torna indietro ma se io creo un podcast come questo che è basato su una continuità delle trasmissioni cioè si parte con la nascita del podcasting poi le radio libere poi i podcast di breve trasmissione poi breve storia della rete e quindi è bene ascoltare in successione non avremo più un ordine tradizionale ma avremo un ordine basato su un ascolto per stagioni e appuntate se lo cambiamo da episodic quello precedente era episodic a seriale quindi se io lo cambio a seriale otterrò questa struttura gli episodi sono proposti dal primo pubblicato all'ultimo e non viceversa interessante le statistiche adesso non avrete niente però sarà curiosa questa questa mappa perché potrete visualizzare fin nel dettaglio di una determinata via per esempio quella collega che abitava a Rimini può vedere se il suo vicino di casa ascolta il podcast cioè nel senso che non sa chi perché non c'è un'identità chiaramente riportata dell'ascoltatore ma potete entrare proprio a livello di a livello di quartiere di strada proprio di via se osservate qui avete delle icone una è questa la prima la prima che cosa fa vi dà l'opportunità di trascrivere il testo della trasmissione lo fa lui automaticamente a che cosa può servire la trascrizione perché guardate che fondamentalmente un episodio diciamo la maggior parte degli episodi poi specialmente quando vogliamo creare una buona trasmissione li scriviamo li scriviamo oppure prendiamo degli appunti oppure insomma abbiamo un sistema visuale che ci consente di realizzare una buona trasmissione quindi alla fine non abbiamo bisogno di questa trascrizione il pubblico che poi ascolta il podcast è raro che vada a vedere proprio la trascrizione della trasmissione la copy se la tengo eccetera quindi questa trascrizione può essere importante quando effettivamente vogliamo trasmettere i contenuti e fare in modo che oltre ad ascoltare si possa realizzare anche un lavoro su questi contenuti se il podcast voi come insegnanti create un podcast su un tema molto particolare e desiderate poi proporre ai ragazzi dei lavori sul testo di questo podcast la trascrizione può essere utile perché potete dare come indicazione di utilizzare questa trascrizione sintetizzarla creare delle grafiche delle slide ricavare un'altra lezione particolare rivista rimanipolata sulla trascrizione stessa tradurre e così via questo diciamo è un aspetto che riguarda la funzionalità di una trascrizione per il pubblico ma c'è una cosa secondo me ancora più interessante che riguarda la funzionalità di una trascrizione per chi crea il podcast comincerà con il mettersi davanti a un microfono e creerà questa trasmissione a braccio a braccio senza preoccuparsi troppo cioè nella massima libertà poi si trova la trasmissione nella sua trascrizione e dunque che cosa farà non pubblica questo podcast prende la trascrizione la mette a posto e la userà per creare un nuovo episodio cioè l'episodio che tratterà utilizzando la trascrizione che è venuta fuori da una prima esperienza spontanea questo è di grande interesse anche per un lavoro didattico perché potete benissimo suggerire ai ragazzini di creare naturalmente un podcast anche spontaneo così e dopodiché utilizzare la trascrizione invece per strutturarlo veramente quindi scegliere le parole giuste riarticolare l'organizzazione eliminare le parti superflue aggiungere gli approfondimenti eccetera mettere tutto in bello stile eccetera eccetera ok oppure l'altra opportunità è di inserire manualmente un testo quindi avete creato una trasmissione sui famosi minerali al quarzo e qui volete inserire tutta una bibliografia di riferimento di letture o quello che volete siti internet eccetera perfetto copiate incollati sistemate qua attraverso un canale audio vi vengono fornite potete fornire anche delle risorse testuali di riferimento e questa è un'opportunità l'altra opportunità è la suddivisione in capitoli stabilite un punto preciso della timeline del vostro podcast da 0 5 secondi a 0 10 secondi della trasmissione abbiamo questo titolo abbiamo un link esterno e abbiamo una copertina a qualche cosa che possiamo inserire nella sostanza possiamo suddividere la trasmissione in tanti capitoli poi lo salviamo a mano a mano che abbiamo creato un capitolo lo salviamo e ne creiamo un altro lungo la timeline della trasmissione che cosa significa questo che rendiamo più agevole l'ascolto nel caso in cui il nostro podcast non sia una narrazione per esempio che è inutile suddividere in capitoli se si tratta invece di una spiegazione di una tavola rotonda su determinati argomenti che cambiano che vengono affrontati allora possiamo arricchire anche il nostro podcast con delle immagini e queste immagini possono essere benissimo anche delle grafiche delle slide possono essere degli sketch note dei disegni che rappresentano i contenuti che da un determinato time all'altro identificano uno specifico capitolo questo è lo schema proprio di creazione e pubblicazione del podcast sono i vari step allora dobbiamo decidere il format e il clock quindi tipicamente lo stile della nostra trasmissione chiamiamolo così la prima cosa poi seconda cosa dobbiamo stabilire il setup questo è importante dove registriamo il podcast la trasmissione le registriamo tutte nello stesso ambiente con quante persone quante voci costituiscono il podcast vedete avremo diversi strumenti e ci sono delle situazioni ideali per ogni tipo di contesto nel quale ci troviamo quindi decise queste due cose il format il clock e il setup possiamo avviare la registrazione quindi creiamo il feed però abbiamo visto che il feed lo crea in questo caso RSS noi non ce ne occupiamo noi compiliamo su di campi pubblichiamo e siamo a posto a questo punto RSS che cosa farà lo pubblicherà nelle piattaforme Spotify Apple Podcast eccetera e quindi arrivati a questo punto noi abbiamo finito perché interviene l'ascoltatore che cosa fa l'ascoltatore l'ascoltatore si abbona al feed di ricezione automatica per l'ascolto cioè entra in Apple Podcast in Spotify o quello che è e si iscrive al podcast e lo può ascoltare quando vuole dove vuole non è necessaria una pagina web per ascoltare un podcast anzi il podcasting la storia del podcasting nasce proprio diciamo verso scontro per evitare le pagine web basta un feed RSS e quello che si chiama un aggregator l'aggregator è un'applicazione come Apple Podcast oppure Spotify che ci consente sono applicazioni che ci consentono di individuare i podcast che ci interessano di abbonarci e di ascoltarli in modo automatico ma un podcast quindi un podcast è solo ed esclusivamente un feed RSS non è un file audio all'interno di una pagina web adesso vi mostro questa cosa qui siamo nei podcast di Radio Rai prendiamone uno quello che prendiamo non so qua disturbi mentali dai ci sentiamo vicini a questi disturbi mentali questo non è un podcast non è un podcast perché non è un podcast perché qui non c'è scritto feed RSS questi sono file audio collocati in una pagina guardatevi cosa succede io ascolto questo arrivo vengo spostato dall'elenco no generale ascolto questo podcast ok l'ho ascoltato poi ne ascolto un altro va bene ascolto un altro d'accordo poi vado sotto e ascolto un altro ancora ok poi che cosa faccio sono costretto a collegarmi a internet sono costretto a collegarmi a una pagina per ascoltarli non posso abbonarmi da nessuna parte mi posso abbonare non posso scaricare l'episodio il mio dispositivo cellulare eccetera non può collegarsi automaticamente a questa a questo finto podcast e verificare quali sono le nuove trasmissioni scaricare e farmela ascoltare in modo automatico non posso fare niente quando me ne vado quando me ne vado io non ho nessuna tracciabilità di quello che ho fatto e devo fare queste operazioni cioè ritornare a Rai Radio Podcast ricordarmi qual era e che cosa ho fatto dunque boh prima eri disturbi mentali poi ho fatto un'altra cosa devo andare adesso lo so quindi ci arriviamo in fretta perché era questo devo andarmelo a ricercare arrivo qui e non so quali sono le trasmissioni che ho ascoltato questo non è un podcast questi sono file audio sistemati dentro una pagina web questo capita perché perché la Rai vuole che si vada sul suo sito ad ascoltare dei podcast non vuole distribuirli né distribuisce solo qualcuno quei pochi che distribuisci solo all'interno di Spotify e Spotify non permette di recuperare i feed RSS perché Spotify è un'altra di quelle applicazioni imperialiste globalizzanti che vogliono monopolizzare i podcast e quindi non mettono a disposizione i feed RSS di ascolto ora guardate che cosa succede quando quando voi create il vostro podcast e avete il vostro feed RSS quindi qui abbiamo un podcast assurdo che si chiama titolo non c'è praticamente niente no? feed RSS io copio questo feed mi recco in Apple Podcast quindi non l'ho pubblicato non l'ho pubblicato in Apple Podcast ma mi recco in Apple Podcast e dal menu file faccio così scelgo un podcast tramite URL quindi tramite feed e aggiungo l'indirizzo di questo feed e lo seguo e basta e lui però siccome non l'ho pubblicato non c'è altrimenti comparirebbe qui il podcast comparirebbe qui lo stesso vale per Google Podcast lo stesso vale per tutte le piattaforme di distribuzione tranne Spotify Spotify non consente di fare questo così cominciamo a esaminare quali sono le vostre prime idee le vediamo tutte quindi tutte dei vostri dei presenti di oggi quindi tra i presenti chi ha realizzato questa attività cominciamo ad esaminarla allora qui non so chi è perché non ho i riferimenti perché non ho è il mio copiato la storia in campo quindi di Paolo Ferrari ah Paolo Ferrari perfetto allora Paolo Ferrari il titolo del mio podcast la storia in campo ah ecco calcio e storia un viaggio nel novecento ecco perché la storia in campo benissimo calcio e storia un viaggio nel novecento ok poi racconta che cosa si prefigge di fare il tuo podcast il calcio è lo sport più amato al mondo ma è solo uno sport in questo podcast scopriremo gli intrecci tra grande calcio e grande storia struttura del podcast quindi pensi a uno story a una narrazione perché perché non è un podcast di attualità suppongo giusto? esatto sì cioè non commenti le partite della cera no no è la storia di grandi squadre legate a periodi storici bello è interessante questa è proprio la tua passione eh sì 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 io insegno storia però sono anche un appassionato di calcio capito so un po' di cose dell'argomento insomma conosco anche abbastanza bene l'argomento quindi ottimo quindi tu sai che io sarò un tuo fan sicuramente va bene crealo crealo il prima possibile questo podcast mi interessa ecco in questi incontri lo facciamo quindi tu avrai sigla finale iniziale e poi se con la tua voce sì sono come prevedi di di organizzare il format per esempio ci saranno altri interventi oltre al tuo? dunque no immaginavo soltanto una narrazione narrazione mia l'unico dubbio che ho è relativo al fatto di leggendo fonti primarie come per esempio so articoli branetti di articoli di giornale se inserire una seconda voce ma francamente adesso non lo so ecco perché tu leggeresti delle fonti anche ma potrebbe essere che leggerei delle brevi citazioni ad esempio immaginavo di articoli di giornale relativi a qualche partita però di base per non complicarmi la vita all'inizio pensavo soltanto comunque di usare la mia voce di usare della musica però anche sia come sigla possibilmente anche usandola sempre in sottofondo alternandola alla voce per sottolineare le divisioni del podcast perfetto allora parliamo un attimo della musica della musica mi sembra che qui avete tutti i riferimenti necessari per lo metto in biblioteca eccolo qua così già abbiamo un elemento importante la musica perfetto quindi non ci sono interviste no anche perché essendo un podcast di narrazione su fatti datati non prevedo da solo diciamo sì non ci sono interviste ci sono delle citazioni le puoi leggere tranquillamente tu non c'è alcun bisogno di avere una seconda voce tra l'altro la tua voce è calda si sente quindi è una voce narrativa certamente verrà fuori una buona trasmissione con ricordati questo quando poi vedremo da vinci vedremo mi chiederai come faccio come farai a variare la tonalità della tua voce leggerissimamente in modo che si distacchi un momento quando citerai una fonte ok me lo sto segnando così se lo dimentico me lo ricordi ecco bravo perché io me lo dimenticherò di sicuro quindi grazie perfetto allora per il resto mi sembra che il titolo sia interessantissimo la storia in campo magari si potrebbe mettere il campo maiuscolo sto pensando alla cover perché la la co sei davanti la mia idea sì perché nella cover nella copertina bisogna che ci siano la copertina sia molto visibile no poi vedremo questo e costruiti in un certo modo non è adesso il momento di creare una copertina però pensate a un titolo che comunque deve colpire lo l'ascoltatore perché guardate siamo qui cioè vedete come sono le copertine no ce ne so alcune non si leggono bene non si capisce altre sì quindi avere proprio poi qui sono ancora più piccole dovete considerare che la copertina la cover è molto importante insieme al titolo perché identifica proprio subito in una marea di cover come fate ad agganciare immediatamente l'ascoltatore non vedrei male neanche un bel pallone non lo so ci pensiamo ci pensi intanto calcio e storia un viaggio in novecento è molto interessante perfetto io direi che va tutto bene non ho niente da dire su questo vediamo in cammino è presente chi il podcast di in cammino sono io sei Paola Paola perfetto io forse l'ho interpretato non bene diciamo non avevo capito sentiamo sentiamo allora il titolo del tuo post è in cammino il titolo è il sottoposto il tuo titolo è camminare nella natura quindi raccontare ogni mia escursione le scoperte le fatiche le emozioni che i luoghi nuovi che vedo suscitano certo beh è molto interessante ed è notizie informazioni o storie su questo adesso discutiamo qui discutiamo vediamo subito potrei riportare i suoni della natura e il mare o di altro perfetto allora cominciamo da il titolo in cammino spiegami un po' che cosa vuoi fare quindi allora io parto da una premessa che ho fatto questo questo corso diciamo dal punto di vista per usare il podcast in classe con i miei alunni si poi si chiedeva invece una mia passione quindi io ovviamente sono un escursionista esatto ma lavoriamo proprio sulla vostra passione proprio per distaccarvi da tutte quelle incrostazioni scolastiche regole regolette burocrazie eccetera che condizionerebbero la vostra creatività quindi applicando al massimo la vostra creatività su qualcosa che vi convince e vi piace poi è facile trasportare tutto questo in classe sì avevo pensato di raccontare perché ovviamente io poi ogni volta vado in luoghi diversi quindi raccontare così quello che vedo allora cominciamo coi termini si tratta di camminare di camminate o di escursioni è il trekking 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 allora secondo me dovresti cambiare il titolo perché in cammino potrebbe significare tantissime cose da business e marketing in cammino verso il raggiungimento di obiettivi strategici a esplorazioni a religione in cammino verso Dio verso la verità eccetera eccetera quindi è proprio veramente sì non va bene non va bene perché precisiamo perché non va bene non va bene perché l'ascoltatore che vede la vostra cover è costretto a fare click per capire di che cosa si tratta e non lo fa non lo fa click quindi e non lo fa click perché ci sono tante cover ci sono tanti podcast e e se di fianco al tuo c'è un podcast che si chiama trekking lui fa click su quello non su in cammino ok però potrebbe essere anche vero il contrario nel senso che potrebbe essendo un titolo un po' generico ecco che può diciamo aprirsi a varie prospettive lo si apre proprio per questo allora la tua osservazione è interessante e mi dà l'opportunità di chiarire un aspetto culturale del podcasting il podcasting non è un palinsesto radiofonico cosa intendo con questo intendo che nel momento in cui qui Paolo Ferrari per esempio che vedo davanti a me crea il suo podcast su un determinato argomento bene l'ascoltatore sa che il podcast di Paolo sarà fedele a quell'argomento cioè tutte le trasmissioni tratteranno di quell'argomento non passerà a parlare dell'alimentazione dei gatti per dire come in un palinsesto radiofonico televisivo dove lungo la giornata tu trovi o anche all'interno della stessa trasmissione tu trovi argomenti molto diversi trattati magari dallo stesso conduttore no questo non succede le persone si rivolgono al podcasting per avere una continuità di trasmissione quindi che cosa significa questo significa che è raro che cerchino qua e là dei podcast ma si orientino a cercare delle trasmissioni che siano conformi ai propri interessi ecco perché il titolo dovrebbe indicare proprio non qualche cosa di generale ma qualche cosa di molto specifico e sempre più specifico in modo tale da informare l'ascoltatore che è amante della natura del tracking eccetera che quello è uno dei possibili podcast che può ascoltare perché non andrà alla ricerca di podcast generici il comportamento del pubblico nei confronti del podcasting è diverso ma proprio radicalmente diverso rispetto al comportamento dello stesso pubblico nei confronti della televisione o della radiofonia è chiaro sì chiaro quindi quindi specifica pensa bene a che cosa quindi se è più rivolto alla tecnica del tracking eccetera più rivolto all'ammirazione e all'esplorazione io volevo rivolgere più magari anche alla conoscenza dei luoghi ottimo alla conoscenza quindi camminare per conoscere tracking per conoscere qualche cosa del genere sì siccome io non sono un esperto di tracking mi piace fare camminate in mezza natura però abbiamo anche le nostre scarpe adeguate eccetera però non è un argomento che conosciamo devi decidere tu quali sono i termini più appropriati per far capire bene all'ascoltatore che questo podcast fa per lui proprio incontrerà i suoi interessi va bene bene e qui ci siamo poi abbiamo osservando si narra un'ultima cosa dimmi dimmi la scorsa volta abbiamo compilato seguendo le tue indicazioni quella parte lì del nostro episodio però io avevo messo tutta altra cosa lì perché pensavo sempre riferimento insomma alla scuola quindi avevo dato un altro titolo sì adesso quindi devo cambiare anche lì diciamo adesso facciamo un altro tipo di attività va bene ritorneremo su quella ma facciamo un altro perché la progettazione è complessa è molto complessa la progettazione di un podcast perché riguarda è perché perché riguarda è semplice da realizzare è molto semplice anche tecnicamente però è complesso riuscire a fare in modo che la trasmissione sia giusta il progetto sia corretto arrivi agli ascoltatori davvero e quindi mettiamo un po' di carne al fuoco per tirare fuori quello che alla fine sarà la tua prima trasmissione osservando si narra chissà sei presente osservando si narra sono io sono io sono Margot sei tu bene osservando immagini e simbolo attraverso un libro che i bambini di cinque anni narrano guardando immagini e simboli allora cosa vuol dire intanto qual è la tua passione ah beh io sono sono nella scuola dell'infanzia e quindi la narrativa è stragrande contenitore per tutto sì ma a parte a parte il fatto che tu insegni la tua passione proprio come donna Margot la mia passione è quello è quello perfetto quindi è raccontare giusto? raccontare ai bambini che per ogni bambino la narrativa cambia a seconda del flash immagine che loro si fanno certo sì è molto interessante questa cosa è molto interessante bisogna trovare è molto specifica anche quindi è funzionale perché i podcast che funzionano meglio sono quelli più specifici bisogna far arrivare all'ascoltatore questa tematica non è facile non è facile perché osservando si narra non mi dice e anche qua osservando immagini e simbolo non mi dice niente sì sì vabbè ma non importa questo tu vuoi insegnare al tuo pubblico come raccontare dalle immagini o vuoi proprio tu raccontare le immagini come se fossi davanti a un pubblico di bambini allora io chiaramente non leggo le immagini io leggo le parole che sono correllate alle immagini quindi la narrativa è quella è la storia che è come è nata ma dal punto di vista di bambini la storia cambia ogni bambino cambia la storia perché non sapendo leggere chiaramente l'immagine che vede marra a modo suo quindi un libro unico viene cambiato più volte sì il punto è che cosa vuoi trasmettere con queste trasmissioni io volevo non sono io in primis vorrei che i miei bambini lo facessero no però in questo caso sei tu quello devi fare perché il podcast è tuo e metti in gioco te stessa non i bambini i bambini non li vedi però li senti sì però qua tu devi creare un tuo podcast per avere un tuo pubblico ok nel senso lei dice che lascia l'interpretazione ai bambini ok però nel podcast tu devi dare qualcosa di tuo e poi come dici tu loro solo interpretano chi lo ascolta però qui deve essere Alberto dice che lo devi fare più specifico ho capito quello che vuole dire però le parole le devo trovarci devo ragionare sopra non è immediato trovare il titolo esatto a questo punto sì e poi soprattutto bisogna capire che cosa vuoi ottenere con questo podcast perché tu sei Margot Margot crea un podcast questo podcast sarà su Spotify su Apple Podcast e sarà destinato a determinati ascoltatori ok cosa molto più in grande quello che si immagini è un podcast quindi sarà pubblico avrai migliaia di ascoltatori una grossa compagnia americana te lo acquisterà per 2-3 milioni di dollari di cui più della metà verranno a me perché ti ho insegnato io e quindi è la strada del successo del podcast di questa ok adesso ci ragiono sopra non è così immediata poi anche se è complicato puoi anche cambiare soggetto no e pensare a qualche cosa che ha più perché anche perché tu vuoi trasformare un'attività specifica che svolgi in aula con i tuoi allievi va bene però questo non ci insegna realmente a creare un podcast perché ci pone tutta una serie di problemi a carattere didattico quello che realizzi resta all'interno della tua classe perché sicuramente non interesserà a nessun altro hai a che fare con dei bambini che allo stesso tempo vedono immagini il tuo pubblico non vedrà immagini tu non trasmetterai immagini attraverso un podcast tranne che per quel fatto che esistono i capitoli ma non è questo che trasforma il tuo podcast in un apparato video è necessario avere un apparato video è necessario avere racconti differenti secondo me non è questo il podcast che realizzi pensa a una tua passione ok a una tua passione personale ti piace leggere ti piace non lo so creare con la creta dipingere ha una tua passione e pensa a creare un podcast per raccontare quello che ti piace fare ok secondo me è meglio va bene poi vediamo narrativa se c'è se è presente chi ha creato chi ha l'idea della narrativa no allora pod reading viaggio nella il viaggio della lettura sei tu pod reading in area non lo so alla fine ho messo quello perché non me ne veniva in mente un altro perché ho pensato la mia passione è la lettura che è la passione di altre 12 mila milioni di persone e quindi la lettura mi sembra male non mi piace perché lo vorrei in italiano se non mi vedete niente allora lascio ok pod reading il viaggio leggere e viaggiare in altri mondi circondati da nuovi compagni di viaggio vieni con me music education story allora tu dici la lettura pod sulla lettura ce ne è tanti è molto diffusa la passione della lettura sì d'accordo però c'è sempre un tuo stile c'è sempre un taglio che tu darai alle tue trasmissioni un format magari particolare quindi che la domanda è perché ti interessa raccontare questo aspetto cosa c'è di interessante che vuoi raccontare il modo l'approccio la scelta le riflessioni che fai sulle letture sono tante no le cose di cui si può parlare Elisa giusto scusa sì sento che la connessione non è tanto buona capito che mi dicevi che il taglio comunque è mio poi l'ho sentito finire però il concetto è quello sì c'è un tuo taglio un tuo stile quindi che cosa ti piace leggere che cos'è che cos'è il viaggio nella lettura per te per me il fatto di trovare quel libro in cui entri e quindi veramente sempre già io penso che ogni persona ha un libro che può fare questo e quindi vorresti parlare di diverse letture penso ogni trasmissione una lettura giusto forse forse l'abbiamo persa va bene lasciamo in sospeso scusa mi sono scostata sì ah ecco sì dicevo che penso che tutti abbiano un libro che può fargli fare questa cosa per me bellissima che anche se non possono viaggiare però così possono viaggiare lo stesso però magari non tutti l'hanno trovato allora sarebbe bello fare dei podcast in cui si propongono dei pezzi di libri sì non so di assaggiarle diversi per poter trovare il tuo certo allora mi sembra molto interessante già questo fatto di trovare il tuo è qualcosa che può entrare nel titolo quindi tu attraverso le tue letture le tue spiegazioni puoi aiutare le persone a trovare i propri a realizzare i propri viaggi nella lettura se è questo se è questo si può immaginare un titolo in questo senso quindi qualcosa con lettura con viaggio sì il tuo viaggio nella lettura ti aiuto a viaggiare attraverso la lettura proprio un titolo esplicito trovo il tuo viaggio anche esplicito certo ma il fatto che tu aiuti col tuo podcast le persone a organizzare il loro viaggio nella lettura questo sì questo secondo me è il senso quindi non un viaggio in generale ma il fatto che sei tu che aiuterai le persone a trovare il diciamo a trovare il loro sì il proprio viaggio esatto attraverso il racconto dei tuoi viaggi naturalmente quindi è un podcast di ispirazione attraverso quello che tu fai ispirerai altri a va bene quindi però io non lo vedrei come musica non lo vedrei come education no ma ho messo musica perché fra musica c'era fra parentesi libri e allora l'ho piazzato lì però forse era poi non ci vede più non è musica e secondo me education sotto un certo punto di vista beh sicuramente letteratura è qualcosa del genere story sì da vedere adesso ritorniamo sul format perché vi mostro uno schema uno schema che vi aiuta poi a scegliere il vostro format va bene poi qui abbiamo Fili Fili sei presente no oppure facciamo prima mi dite chi è presente con il suo podcast che lo ubicchiamo subito così sono la gioia ho inviato tu sei la gioia benissimo vediamolo subito ma il titolo del podcast qual è? viaggiare viaggiare questo perfetto allora spostamenti di fantasia e realtà possiamo viaggiare fisicamente ma anche con la fantasia si possono esplorare mondi sconosciuti recuperare quelli di prustiana memoria ok va bene con la tua voce intro sottofondo musicale prima parte viaggi e l'animo della fantasia seconda parte viaggi reali quindi penso questo poi interveniamo dopo va bene raccontaci un po' la tua idea sì la mia idea sarebbe quello di dividere quindi non so se in stagioni potrei prevedere una stagione 1 in cui dedicarmi i podcast ai viaggi della fantasia anche lì ci potrebbero essere ci potrebbero essere dei sottogruppi cioè i viaggi che vorrei fare e i luoghi che magari conosco ma le cui parti le cui zone tipo parigi la conosco molto bene però ci sono delle zone che vorrei esplorare anche attraverso la lettura di un libro le pagine di un libro o di libri e poi invece ci sono i viaggi reali dove il podcast funziona più come una guida che ne so le entrate gratuite se siete uno studente se siete un insegnante se siete piuttosto che e quindi quello poggerebbe più che altro sull'esperienza diretta cioè di luoghi già esplorati e una terza piccola sezione sì pronto Anna Rita che è successo Anna Rita non ci sentiamo pronto ci sono non ti vedo più Anna Rita sì sì ci sono io sono qua vai la terza sezione una terza sezione con i luoghi del cuore quindi ecco facendo riferimento alla memoria ritrova al tempo ritrovato attraverso dei ricordi delle sensazioni recupererei i luoghi del cuore che sono più vicini diciamo a un mio vissuto certi miei agi eccetera allora la domanda è quanto durerà una trasmissione di media? una trasmissione? beh no vorrei che non fosse troppo lunga perché vorrei raggiungere dare degli input solleticare la curiosità degli ascolti però senza dilungarmi troppo quindi non più di mezz'ora 20 minuti al massimo perché già parlare per tre minuti è tantissimo è tanto sì sì certo quindi insomma fare degli interventi brevi mirati coinvolgenti che siano piuttosto delle pillole va? secondo me a occhio a occhio ti dico questo la trasmissione è composta da tre momenti distinti questi momenti distinti possono coesistere in una trasmissione breve dove io passo abbastanza rapidamente da uno all'altro quindi una trasmissione di non più di una decina di minuti sì sì va benissimo va benissimo perché altrimenti meno perché non ho esperienza in questo quindi magari io mi terrei un po' stretto perché che cosa succede? succede questo che l'ascoltatore nel momento in cui per esempio la prima parte della trasmissione dovesse essere particolarmente intensa l'ascoltatore sarebbe coinvolto in un'attenzione molto forte che quindi come dire lo stancherebbe poi cambiare un altro argomento con una certa intensità e poi nuovamente un altro punto di vista di nuovo un altro tema diventerebbe molto impegnativo questo ascolto per favorirlo bisogna rimanere su un piano come nel tuo caso su un piano più di leggerezza mentre una narrazione c'è un audiolibro per dire che può durare anche sette otto ore beh beh io ascolto so che è un libro sto ascoltando un romanzo mi metto io ho un'ora a disposizione faccio la ciclette quello che è ascolto va bene invece il podcast di questo genere cioè un podcast che ti aiuta a capire delle cose ti dà delle informazioni ti sostiene in certe attività necessariamente si distingue da un audiolibro chiaramente quindi deve avere una struttura più dinamica e più leggera sì certo beh anche perché no viene detto che più di 15 minuti l'attenzione non si legge lo diciamo per gli studenti ma lo dobbiamo tenere valido per tutti sì sì certo poi col podcasting e lo statuto audio ci sono una serie di cose anche da considerare senti fai una cosa pensa pensa a staccare attraverso un inserto musicale un elemento sonoro qualche cosa questi tre momenti in modo che il passaggio da uno all'altro sia molto preciso certo ma non sarebbe ogni volta non sarebbero compresenti in ogni ogni volta cioè io mi dedicherei ecco perché forse non so se abbia usato i termini giusti abbiamo parlato di stagione stagione uno che ne so i luoghi della fantasia con tre quattro appuntamenti ah ho capito no io pensavo che all'interno di una trasmissione la trasmissione fosse strutturata in tre con tre elementi diversi ogni trasmissione lo spinirei l'ascoltatore no invece potrebbe essere interessante in una trasmissione di dieci minuti potrebbe essere interessante tre minuti per ogni argomento ah va bene sì perché tu avrei non so tu potresti avere Parigi no hai nominato Parigi e quindi un determinato quartiere via non lo so quello che è di Parigi che viene vista secondo tre approcci diversi sì 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 va bene d'accordo sono tre sono tre format diversi potrei anche fare Parigi come luogo del cuore Parigi no viaggio di fantasia no? sì e poi appunto il viaggio propriamente detto cioè sì all'interno all'interno della stessa trasmissione va bene va bene sì poi potresti avere un'altra trasmissione che magari è sempre su Parigi ma tratta dei luoghi diversi sì cioè voglio dire va bene poi anche una città un luogo potrebbe avere tre quattro trasmissioni prima di passare a un altro luogo e poi non solo ma potrebbero essere anche alternati mettiamo che i luoghi siano non so Parigi Madrid e Londra per dire va bene i macro luoghi potresti creare tre trasmissioni per ogni macro luogo e alternarle alternarle così proprio Parigi Madrid e Londra Parigi Madrid e Londra eccetera ognuno ogni trasmissione con un titolo preciso che faccia capire di che cosa stai parlando di Champs-Élysées che ne so il Prado quello che è e da lì parte questo viaggio in tre direzioni va bene potrebbe essere molto più interessante molto più dinamico e veramente accattivante rispetto a un podcast diviso in stagioni dove in una stagione affronti un tema in un altro un altro tema e così via ok sì no no è carino così va bene prova a pensarci quindi anche il titolo il titolo molto complicato è il titolo da trovare molto complicato sì ci devo pensare un po' anche i tuoi compagni ti possono aiutare possono far venire delle idee molto complicato viaggiare perché sono tre momenti del viaggio fantasia in realtà ci devi pensare è il tuo compito per la prossima volta va bene d'accordo grazie figurati poi sentiamo chi si fa avanti mi faccio avanti io dai prendo il coraggio marco bergamasco gli antichi e noi si è proprio lì sono sotto è qua perfetto ma ecco vai marco allora ma l'idea parte da cioè anche la frequentazione del tuo corso parte dal fatto che io ho già un canale youtube in cui ci sono le immagini e parlo però questa cosa dei podcast mi attira moltissimo perché un altro modo per per divulgare come no e siccome al di là delle cose è un canale dedicato a italiano latino e greco ma al di là di questo la parte più interessante perché la mia passione come dici tu è sull'attualizzare l'antico e quindi si parte per esempio l'altra volta tu hai spiegato il mito di arachne non mi ricordo se nel storytelling o podcasting ed è un mito ah perché li segui tutti e due i corsi eh sì infatti ieri non c'ero perché ero in e quindi se la metto tutta aspetta che mi attivo mi ho attivato la videocamera quindi ci tenevo a a proporre stavo dicendo sul canale ho delle cose che riguardano proprio l'attualizzazione e mi sarebbe piaciuto mi piacerebbe realizzare qualcosa del genere con questo nuovo strumento insomma che per me è nuovo perfetto allora prima cosa metti in chat il link al tuo canale così intanto tutti possiamo andare a conoscere qui abbiamo un ragazzi abbiamo un influencer al corso no non sono un influencer no assolutamente no certo certo quindi abbiamo un influencer al corso quindi venerare l'influencer punto numero uno ammirare l'influencer sono uno al servizio degli altri dai non esagerare è bravissimo è bravissimo all'umile ma è bravissimo eh lo immagino certo lo sento già da qua allora metti il link andiamo subito a vedere perché magari proprio dal tuo canale youtube possiamo trarre degli spunti di ispirazione ah addirittura certo perché c'è un problema c'è un tema un tema che noi purtroppo non possiamo affrontare perché il corso è quello che è e dobbiamo portarlo alla conclusione con il vostro prodotto ma c'è un tema che è molto discusso soprattutto negli Stati Uniti dove il podcasting è un boom incredibile che si chiama così first video first audio vale a dire parli per essere ascoltato o per essere visto quali sono gli intrecci e i legami tra i canali visivi e quelli uditivi è possibile contemporaneamente creare dei podcast audio e allo stesso tempo dei podcast video o dei semplici video alla youtube senza troppe variazioni quali sono questo è un grosso tema è un grosso tema che però noi qui non possiamo affrontare però il fatto che tu ci sia allora vediamo un po' hai messo nella chat allora su un secondo solo che lo trovo un secondo solo perdonami perché non sono così pratico sì io ho anche fra l'altro per intanto che trovo perché la va ridento la la connessione fra l'altro io ho anche dei video in cui vi spiego la grammatica ma non compaio che secondo me sono un hanno scusa perdonatemi secondo solo un secondo solo ci arrivo in cui secondo me è un limite non comparire se sei sul sul ci sono eh sì ti chiedo scusa secondo solo che dico è un limite se sei su youtube è un limite non comparire perché secondo me l'empatia passa anche per certo youtube poi il canale esatto guarda fai prima tu si chiama berga youtube perché non riesco incolarli in questo momento stai sto provando compianza emozionato insomma figurati allora vediamo subito aspettate che ce la faccio forse ecco ce l'ho fatta vai adesso vi raggiungo su zoom ritorno su zoom e ce la faccio la chat è qui giusto sì perfetto va bene è arrivato signori scusatemi il tempo che avete atteso figurati eccolo eccolo qua bene allora prendete nota tutti ti do fatti le provvigioni vabbè ho capito dai e voilà berga youtube perfetto perché sono berga a scuola capito io sono ma sono berga quindi questo è il di presentazione questa è la presentazione prendiamo una cosa qualsiasi giusto per capire solo quando ti riconosci davvero l'esperienza di macchiavelli questo è un podcast questo in classe questo in classe nella sua vita nel corso questo è una serie di video realizzati in classe poi ce ne sono altri costruiti a casa se voi te ne indico un altro è dedicata da una parte ovviamente alla alla sua formazione ok andiamo avanti se tu torni fuori te ne do uno costruito perché questo è proprio nudo e crudo ce ne sono altri che sono costruiti va bene questo comunque è interessante per un motivo poi ti dico una cosa dimmi se tu vai sotto per esempio se tu prendi dove c'è Mark Berga d'Egitto che è la serie è l'ultimo proprio l'ultimo l'ultimo che vedi che c'è 60 secondi Mark Berga d'Egitto quello lì ecco quello lì è uno dei più Mark Berga d'Egitto nuovo appuntamento con le storie del passato raccontate dai papiri e la puntata di oggi è il racconto di una scoperta sensazionale avvenuta alla metà del 1700 di una villa sepolta sotto una coltre lavica spessa più di 20 metri che presenta una caratteristica unica al mondo infatti conserva i resti di un'antica biblioteca ed è l'unico caso a noi noto testi che si sono conservati carbonizzati ma che con le moderne tecnologie saremo e siamo già in grado di leggere le domande sono molte come sempre i punti di interesse non mancheranno se siete pronti altrimenti in forma classico e con le scritte a fianco e con le scritte a fianco però questo è vediamo questo se vai sotto ancora no qui ci sono sempre tutti con le scritte se vuoi vedere qualcosa più di recente vai più sotto e c'è la serie di ariosto per esempio non lo so ma non volevo rubarvi tempo anche perché temo il tuo giudizio se vai ancora sotto beh aspetta sotto sì dove c'è il che ne so Guicciardini lì è Lorenzo dei Medici insomma ma sono tutte spiegazioni che talvolta se ho tempo corredo delle scritte altrimenti sono dedicato alla grazia è un lavorone certo no sono sempre qua no la serie in classe è segnalata da una il proof in classe fra l'altro sì bene bene fantastico allora dunque allora ragioniamo un po' intanto su questo materiale perché tutte le lezioni che tu realizzi in classe dato che ci sei solo tu e non mostri delle scritte non mostri dei dei contenuti possono essere tranquillamente trasformate in podcast bisogna come le conferenze di Barbero non cambia niente è la stessa cosa Barbero parla a un pubblico adulto no ma non è vero perché certe volte incontra anche gli studenti quindi direi che è la stessa identica cosa ascoltarlo vederlo vederlo non cambia nulla rispetto all'ascolto l'unica cosa è che devi specificare nel podcast che si tratta di lezioni tenute per i ragazzi perché perché il mondo del podcasting si è molto evoluto e quindi normalmente gli autori magari un autore come te riscrive in chiave podcast cioè in chiave audio il il tema che che trattava lo riscrive per un pubblico che ascolta no quindi quindi dirà ebbene ci troviamo oggi nel 500 nel 500 riprendiamo le nostre puntate con il Machiavelli allora Machiavelli tutti lo conoscete ne avete sentito parlare l'avete studiato però oggi vi racconto un fatto particolare questa è la trasmissione tipica podcast se vuoi no mentre la conferenza è quella che tu hai svolto quindi è sufficiente che tu nel titolo nella descrizione del podcast tu chiarisca questa differenza per non ingannare il pubblico che magari si aspetta qualche cosa di di dinamico di radiofonico eccetera e invece si trova alla registrazione di una di una lezione ok quindi tutto quello che fa in classe diventa podcast senza nessun problema questo vale per te e vale per tutti gli altri bisogna solo specificarlo poi il format invece dell'Egitto quello che abbiamo ascoltato ma che berga d'Egitto nuovo appuntamento con le ecco guardate io storie del passaggio raccontate dai papiri e la puntata di oggi è il racconto di una scoperta sensazionale è molto radiofonico di una villa sepolta sotto una coltre lavica spessa più di 20 metri che presenta una caratteristica unica al mondo infatti conserva i resti di un'antica biblioteca ed è l'unico caso a noi noto testi che si sono conservati carbonizzati ma che con le moderne tecnologie saremo e siamo già in grado di leggere le domande sono molte fermiamoci su questo punto prima di tutto mi prendo un po' di tempo con te perché mi prendo del tempo con te perché questo corso non è cioè è organizzato in modo tale che l'esperienza di ognuno diventa un patrimonio di tutti e noi troviamo ispirazione ispirazione in quello che ciascuno ti noi racconta allora abbiamo la fortuna di avere qualcuno che ha già un'esperienza di comunicazione molto organizzata e articolata quindi perfetto abbiamo una case history da utilizzare mi metto in gioco grazie allora perfetto molto bene allora qual è la questione fondamentale qua è esattamente questo punto e con le moderne tecnologie qua ma che con allora carbonizzati sarà qua è l'unico caso a noi noto testi che si sono conservati carbonizzati allora testi che si sono conservati carbonizzati dobbiamo ragionare perché questo è il tema first video first audio nello specifico se noi vediamo questi testi carbonizzati cioè è impressionante è impressionante pensare che da questo agglomerato di carbone sia possibile ma che con le moderne tecnologie con delle tecnologie saremo e siamo già in grado sia saremo e siamo già in grado di decifrarli a parte questa è una cosa che non sapevo neanch'io ma è straordinaria io insegno storie ma non la sapevo questa cosa quindi è perché i papirologi sono stato papirologi un'altra vita sono pochi in Italia è incredibile come si riesca a tirar fuori da un oggetto carbonizzato la lettura di una scrittura cioè è assolutamente stupefacente però dobbiamo ragionare su questo perché l'ascolto di questo testo proprio il puro ascolto non è inibente rispetto a quello che racconti perché se noi ragioniamo sul lessico e sui campi semantici che il lessico implica e cioè carbonizzato sappiamo che cos'è papiro sappiamo che cos'è è qualcosa che si srotola non abbiamo bisogno di immaginarlo cioè scusa non abbiamo bisogno di vederlo per poterlo immaginare se tu usa e poi la tua spiegazione si ferma a questo punto se tu usassi degli dei termini più specifici poniamo che la macchina che con la quale la procedura con la quale avviene questo sviluppo si chiama non so argos 322 per tirare fuori gli isotopi 741 poniamo va bene questa parte all'ascoltatore sarebbe fastidiosa a meno che l'ascoltatore non fosse uno specialista quindi che cosa abbiamo abbiamo un paradosso il paradosso è che questo 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 brano è più indicato all'ascolto che al video perché dal momento in cui tu mostri mostri questa immagine del dove è del qua questa immagine no a questo punto dato che fai vedere potresti approfondire e far vedere più in dettaglio come avviene la procedura cosa che cosa che non fai è che rende questa spiegazione più adatta invece a un sistema di ascolto dove un diciamo essere troppo specifici sarebbe fuori luogo perché non ho le immagini non vedo le macchine non so che cosa sta succedendo quindi non mi interessa questo dunque abbiamo abbiamo capito una cosa interessantissima nel momento in cui tu mostri delle immagini vai a fondo mostra i dettagli mostra proprio se esistono naturalmente gli schemi le formule chimiche perché io posso prendere nota fermarmi anche anche un ascoltatore anche uno spettatore non specializzato se tu qui inserisci una formula chimica che dura tre secondi non mi dà fastidio non mi dà fastidio invece se tu me la leggi in una trasmissione audio mi dà fastidio perché perché io non sono un tecnico mi richiede uno sforzo ulteriore di immaginazione perché l'ascolto è più complicato della vista perché nella vista io ti dico quello che tu devi immaginare cioè ti tolgo l'immaginazione te la sostituisco con l'ascolto invece sei tu ascoltatore che devi occupare il vuoto di immagine che io non ti trasmetto quindi è un lavoro ascoltare è un lavoro maggiore che vedere dunque più informazioni passo ascoltando e più impegno alla tua attenzione e più ti affatico ma non è così quando ti faccio vedere e quindi quando ti va certo se tu adesso iniziassi una spiegazione di venti minuti sulle formule chimiche beh uno chiude perché se non è un esperto va bene ma se è solo per far capire il procedimento questa è una cosa interessantissima e stupefacente che si può benissimo far vedere ma si può raccontare attraverso l'oralità solo entro determinati limiti ecco la grande differenza tra lo statuto video e lo statuto audio il codice visivo e il codice uditivo notevole se non ci avevo pensato questo vale per tutti e quindi ecco il motivo per cui questo corso è impostato così proprio sulle esperienze che via via a mano a mano voi costruite o portate perché ci sono vengono degli spunti di riflessione e considerazione che adesso può darsi che qualcuno di voi magari parlando del trekking eccetera riesce a capire qual è la differenza nell'addentrarsi troppo in un racconto tecnico o meno fin dove lo può fare dove no e c'è cioè noi abbiamo un pubblico questo pubblico ha una media di istruzione culturale ecco se noi creiamo un podcast che si rivolge a un pubblico piuttosto ampio dobbiamo sapere che più o meno papiro carbonizzato eccetera queste cose le ha assimilate no oppure individuiamo un target molto più specifico allora è tutta un'altra storia ma è un ottimo consiglio del resto è possibile che tu possa anche operare una variazione nel tuo canale youtube e cioè tu possa creare un canale podcast per un ascolto di tipo A rivolto a un target generico no in cui hai spiegato questa cosa dei papiri fantastica in quella villa non è necessario vederla la villa quante immagini abbiamo visto sui libri di te poi siamo italiani cioè quante volte abbiamo visto una villa una villa cioè non siamo americani o canalesi siamo italiani quindi ce le abbiamo sotto il naso queste cose fanno parte del nostro patrimonio se tu facessi un podcast in lingua inglese sarebbe un po' più complicato chiaramente perché una villa per gli americani molto probabilmente è una villa conogliale bianca del settecento ottocento mentre invece per noi una villa romana sappiamo bene che cos'è una villa greca brusca eccetera quindi questo è cosa però volevo dire un'altra cosa nel frattempo me la sono dimenticata perché ci sono tante cose a dire su cui ah sì che tu allora potresti aprire un canale podcast e un canale di youtube di questo genere nel canale podcast racconti la meravigliosa storia del papiro questa scoperta eccetera nel canale video invece hai gli approfondimenti e che cosa fai nel canale podcast ti inviti i tuoi ascoltatori a visitare lo specifico canale video di youtube per avere ulteriori approfondimenti e lì ti sbizzarisci a mostrare immagini procedimenti chimici tecnici infrarossi e tutto quello che è lo sai che un giovine mi ha detto un giovine esperto di queste cose mi disse la stessa cosa dovresti aprire due canali me l'ha detto così dal suo punto di vista però questo implicherebbe un lavoro ovviamente maggiore certo ma tu sei destinato un po' a lavorare si e leggi anche nel cuore delle persone va bene va bene no invece questo video è un video di promo che ovviamente era stato costruito per accendere la curiosità e poi c'è il video quello più più esteso in cui si spiega tutto ho trovato molto interessante il suggerimento dei due livelli comunque del però l'altro una cosa volevo chiederti youtube da pochi anni o sono quattro anni col canale ha attivato proprio la possibilità di pubblicare i podcast anziché i video da poche settimane proprio da poche settimane da due settimane è compatibile con i feed rss ah questo lo sapevo si ma scusa quindi aver lo stesso canale per i video e per i feed rss non avrebbe senso dovrebbero essere due distinti meglio sono sempre due canali distinti si nel senso perdonami non ha senso che io incominci a pubblicare podcast sullo stesso canale no tu pubblichi il podcast tramite rss su tutti i canali podcast spot fai cose eccetera dopodiché tramite rss con quel sistema che abbiamo visto che poi quando lo pubblicheremo all'ultima all'ultimo incontro faremo queste operazioni proprio tramite l'opportunità di avere l'rss questo lo inserisce anche in youtube e quindi automaticamente tu avrai la ridondanza del podcast da spotify apple podcast eccetera a youtube e sarà identico youtube si aggiornerà perché perché è diventato finalmente compatibile con il feed rss benissimo allo stesso tempo sempre nel tuo nel tuo canale che è questo quindi nel qui tu avrai qui avrai scritto avrai qui hai video ma qui avrai anche podcast qui avrai anche podcast come può avvenire qui però io non voglio usarlo in questo caso ho fatto solo delle delle prove qui dovrebbe apparire la scritta podcast tu vedi tu non ce l'hai questo no perché non ho inserito non ce l'hai perché non hai inserito niente se fai click qui vai nell'america è un paese da valigiare appunto ok dunque resta sempre resta sempre in casa berga youtube non devo aprire un altro esatto qui Alberto Piano altrimenti è benissimo dove eri tu basta che si accende tutto il mondo resta sempre all'interno del tuo canale ti apparirà qui il dispositivo il pulsante podcast ottimo scusa ancora l'ultima domanda questo te sì ma Spotify che prima hai detto che è blindato sì cosa significa che su Spotify si pubblica a pagamento o è diversa la modalità no 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 significa che tu puoi comunicare a Spotify il tuo feed RSS e quindi nei canali di distribuzione tu decidi di trasmettere questo podcast anche in Spotify lui recepisce il feed no perché lo recepisce Spotify perché non gli costa niente perché è RSS che si fa carico dell'hosting mica Spotify Spotify è un passaggio semplice passaggio lui recupera il feed nel feed che cosa c'è scritto c'è scritto che il tale episodio si trova in un certo server con l'altro in un'altra parte e così via e basta lui lo trasmette però siccome Spotify ti vuole far rimanere lì io utente di Spotify utente di Spotify trovo questo podcast cercandolo dentro Spotify e non so come fare per andare a prendere il feed e ascoltarmelo con un'altra applicazione ok capito è solo quello in realtà siccome poi noi lo pubblichiamo in tutti i canali quindi alla fine io ce la avrò anche in Audible in Amazon Music in Apple Podcast eccetera eccetera quindi è un trucco cretino perché non è che con questo limita cosa però Spotify fa un'altra operazione e cioè fino a poco tempo fa comprava i podcast adesso non lo fa più perché ha speso una barca di quattrini ed è un modello di business che è andato in in negativo come si dice in rosso si gli ha procurato delle perdite però cosa faceva non so vedeva il tuo podcast dice bello papiri eccetera te lo compro me lo vendi 5.000 euro 3.000 euro 10.000 euro tu glielo vendevi e nel momento in cui lo vendevi lui ti toglieva il feed rss e tu e il pubblico era costretto ad ascoltarlo qua oppure commissionava commissionava grazie a Giovannardi il podcast e cioè grazie a tu che sei esperta di ti do 10.000 euro fai 5 puntate su questo e però resta su Spotify ma se tu crei un podcast indipendente hai il diritto di pubblicarlo dove vuoi certo e beh non è poco certo grazie prego bene bene signore ho grandi onore al nostro influencer poi un giorno potremo raccontare certo quando avrà 100.000 milioni 4 milioni e mezzo impossibile e anche la e anche la Ferragni busserà la sua porta piangendo perché lei piangisce dovrei fare delle cose buffe Alberto per fare per fare audience dai no no tu avrai la Ferragni piangendo che verrà la tua porta e tu le offrirai un frico qualcosa del genere bravo vedo che sei di casa bravo però non sei adatta tu al massimo prenditi un frico allora noi potremmo raccontare che abbiamo conosciuto è certo un altro influencer bravo complimenti grazie caro ok poi qui cosa andiamo un po' avanti se c'è ancora qualcuno si faccia avanti quindi gli antichi e noi posso allora aspetta però gli antichi e noi non va bene come qui è tutto da ragionare ti ho già rubato tanto tempo non voglio portare gli altri per gli altri lo dico è grato certo no ragione ci poi ci risentiamo quindi chi si va avanti ero io che volevo dire una cosa perché vabbè sbagliato compilare il form poi appunto non avevo partecipato non avevo capito bene ma la mia idea è di farlo fare ai ragazzi io non voglio fare niente no lo devi fare tu no lo devi fare tu lo devi fare tu se no non partecipi al corso vabbè sì lo posso fare io però poi il mio obiettivo è farlo fare a loro quindi io certo ma per farlo fare a loro per farlo fare a loro devi prima farlo tu perché solo se lo fai tu sì però non mi voglio impegnare con i contenuti cioè voglio fare delle cose didattiche lo posso fare io ma lo voglio fare didattico cioè se non va bene qual è la tua passione? qual è la tua passione Manila? ma sempre la natura gli animali però lo trovo banale no? come banale? perché banale? non c'è nulla di banale ce ne saranno migliaia migliaia va bene ma anche i tuoi studenti penseranno che quello che fanno sarà banale no no loro no perché per loro una novità non lo pensano io faccio video making con loro e quindi già facciamo questo tantissimo su temi sociali e per loro anche quello può essere banale ma per loro non lo è fatto si divertono tantissimo quindi non credo quello però per farlo io non mi sentirei all'altezza quindi non invece secondo me bisogna superare proprio questa cosa è importante è proprio importante perché proprio questa difficoltà ti consentirà di capire veramente bene che cos'è il podcasting come farlo come progettarlo e come aiutare i tuoi allievi a realizzare una buona cosa ok però lo vedo come un compito cioè non lo vedo come una cosa mia ecco questo volevo sottolinearlo perché mi sembra onesto ah beh allora decidi tu in questo caso c'è sempre l'eccezione che conferma la regola come si suol dire io ti consiglio di prendere una delle tue tante passioni il video making è una tua passione sì sì ho fatto vari cortometraggi e allora scusami questa è una tua passione parla di questo crea un podcast su questo che tra l'altro può essere anche di grande aiuto per i tuoi studenti va bene giusto è una buona idea forse ok perfetto pensa a come eh dai perfetto ed è di aiuto anche a tutti noi perché lo ascolteremo volentieri anch'io anzi Manila poi ti chiederò qualche consulenza visto che sei così esperta va bene condividerò i miei video cioè i miei cortometraggi grazie grazie bravissima perfetto molto bene e come fai a condividerli mi scrivi sono dei link sono dei link ovviamente il primo è molto cioè quelli che ho fatto all'inizio avevo poca esperienza poi mi è arrivata col tempo certamente è chiaro come no ma metti quello che vuoi mettene un po' e aggiungili qui nelle note aggiungili qui così li abbiamo allora lo riscrivo perché ho scritto gli insetti sociali insomma ho fatto un po' un pasticcio lo rifaccio lo rifai la cancelli esatto la cancelli perché sbagliata qual era il tuo già insetti sociali che sono una mia passione gli insetti sociali gli insetti sociali esatto però ho sbagliato perché poi lì ho risposto avevo capito che dovevo parlare del far niente quindi ho sbagliato allora no lo lascio perché è interessante come argomento e ce lo ricordiamo perché è un bel argomento interessante e poi tu lo aggiungerai però ho sbagliato la colonna G ho sbagliato perché pensavo che dovevo parlare del far niente quindi ho sbagliato la colonna G no vabbè vabbè non importa va bene riscrivi e poi aggiungi nelle note i link ai tuoi lavori che è una cosa che possono ovviamente fare tutti anzi anche il nostro Marco poi aggiungerà quando riscriverà il tema del suo podcast e poi aggiungerà i link direi il canale ce l'abbiamo magari a qualche a qualche cosa di specifico che risalta di più e può essere preso come un modello un esempio ottimo benissimo poi che abbiamo posso intervenire io l'ho compilato presto perché purtroppo la volta scorsa avevo un incontro in contemporanea sono Vanda e sono l'ultima persona che ha compilato in realtà poi ho capito adesso che dovremmo fare noi questo questo canale podcast quindi cambierei questo infatti è un canale podcast che realizzerò con i ragazzi quale? di cosa stiamo parlando? scusami l'ultimo progetto che è stato inserito Stringcast sì esatto è un canale dedicato all'Esteam ci ha aggiunto la A perché il ministero nell'ultimo bando se l'è dimenticata la A ma in realtà è importante perché a volte conosco sì esatto quindi sicuramente lavorerò con loro abbiamo fatto già delle esperienze perché abbiamo cercato in modo amatoriale senza grandi strumentazioni ma di realizzare dei podcast sull'outdoor education o sulle digitali sulle esperienze digitali e quindi abbiamo messo un po' insieme queste cose e ai ragazzi è piaciuto tantissimo però se effettivamente questo podcast da realizzare per il corso deve essere recitato da noi insomma comunque scusami recitato comunque realizzato da noi con un intro eccetera forse penserei ad un approfondimento che sto facendo per altre ragioni per un mio interesse che ho sullo storytelling legato a una tragedia della motonave Elisabetta Montanari sicuramente è una tragedia in cui erano morti delle sono morti degli operai e in realtà ha segnato poi una svolta per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro eccetera quindi forse cambierei scusate se già ho compilato per ultima però ho letto ho sentito adesso che mi dicevi no dovete comunque è una cosa vostra e quello invece sarà un lavoro che ho già previsto di fare con i ragazzi no no anche perché non abbiamo neanche lo stricchio certo sì certo però l'unica cosa magari è vorrei avere qualche consiglio dimmi benissimo nel senso che io ho pensato di fare cioè i ragazzi hanno già sperimentato la tecnica dell'intervista quindi in genere lavoravano in coppia sì ed è risultato efficace però volevo cercare anche altri modi perché se sarà un intero canale dedicato a questa tematica delle STEM magari pensavo di fare in modo che dei gruppi di ragazzi invece potessero andare a scegliere un format differente volevo confrontarmi con voi per capire quale altro con te per capire magari quale format può essere quello più adatto allora ne parliamo dopo che hai creato il tuo progetto va bene allora io intanto mi concentro sul mio perché è un argomento abbastanza impegnativo anche quello invece della motonave Elisabetta Montanari però sì quindi sarebbe sarebbe un podcast che sarebbe articolato in tre quattro cinque trasmissioni perché ogni trasmissione racconta quindi sarebbe un vero un vero podcast narrativo sì io pensavo di immaginarmi di raccontare la storia siccome sono morti tanti ragazzi giovani pensavo di con la fantasia di tornare di fare un approfondimento sulla vita di questi personaggi di questi ragazzi delle vittime come no e un po' raccontare partire col primo episodio pensavo di farlo pensando alla mattina della tragedia e poi invece nei successivi ognuno di questi personaggi va a raccontare alcune cose che si intrecciano un po' drammaticamente poi si riallacciano a quella giornata tragica ad esempio uno dei ragazzi molto giovani era il suo primo giorno di lavoro e quindi magari pensavo per non cadere nella banalità il problema era anche scegliere la musica adatta però a questo punto una intro e un eh vabbè anche c'è da lavorarci ci lavorerò adesso ci penso però se avete qualche idea se già sei darmi qualche idea Alberto magari ci lavoro con più allora mi sembra che il ci voglia una trasmissione che spieghi di che cosa stai parlando chiaramente cioè non puoi secondo me creare una trasmissione un podcast nel quale la prima trasmissione verte immediatamente sulla storia di un soggetto quindi potresti creare una piccola trasmissione introduttiva che spiega di questa tragedia in generale cosa è successo persone morte eccetera e poi dagli episodi successivi inizi a raccontarla a quel punto la puoi raccontare come vuoi puoi seguire il filone di singoli soggetti che sono stati coinvolti e questo è molto interessante fa molto storytelling molto narrativo chiaramente un tema che potrebbe essere sollevato nella tua nel tuo progetto è quello delle voci narranti quindi tu saresti l'unica voce narranti ne prevedi delle altre perché perché in realtà un'altra idea che avevo avuto ma poi è quella di citare alcuni personaggi che si erano espressi a proposito di questa tragedia però in effetti l'unica voce narrante secondo me risulta noioso infatti avevo pensato magari di intervistare i parenti o qualcuno che aveva no ma dipende 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 poi intervistare parenti è molto complicato poi la gente non ha voglia di ritornare su questi argomenti e poi rischia di scadere nella cronaca giornalistica bieca che è veramente fastidiosa non so come la pensi certo anch'io sì non volevo andare su questa cosa devo dare un taglio un po' diverso più di medesimazione di questi personaggi mi piaceva molto di più però qualcosa che aveva detto ad esempio il cardinale o qualcun altro in realtà poi anche se poi anche lì non voglio rischiare invece di rivolgermi solo ad una tipologia di pubblico perché anche quello è impegnativo nel senso che avevano detto però si erano schierati ascolta abbiamo due temi da affrontare allora uno è che tu parli molto velocemente e quindi ti devi esercitare a rallentare a rallentare a fare delle pause delle soste perché il mezzo di successo del tuo podcast è la tua voce non c'è altro puoi aggiungere tutti gli effetti speciali che vuoi musiche strutture di storytelling quello che ti pare ma alla fine la voce del narratore è ciò che attira l'ascoltatore quindi la prima cosa che secondo me sulla quale devi diciamo stabilire delle idee sono i tempi di narrazione perfetto sì certo per esempio cari ascoltatori oggi vi parliamo di questa immane tragedia che ha colpito molti giovani pensate questo è un modo beh c'ero idiota secondo me però diciamo è una tipologia chiaramente un'altra è invece oggi affrontiamo un tema che ha scosso le famiglie quindi molto più calmo con delle pause e diciamo anche scegliendo dei termini sui quali calcare l'accento era si stava era il suo primo giorno di lavoro non era il suo primo giorno di lavoro e stava no era il suo perché è una storia che reca con sé un dramma e e dei sentimenti questa storia porta davvero dei sentimenti quindi su questi sentimenti si gioca il successo della tua narrazione i sentimenti sono portati dalle parole ci sono delle parole delle frasi che devono essere sottolineate devono distinguersi dalle altre quindi devono essere isolate e per questo devono esserci delle pause prima e dopo queste parole e queste frasi importanti perfetto grazie sicuramente Giovanni 22 anni si stava recando al lavoro era la sua prima giornata pausa adesso non so se abbiamo il tempo o è il tempo insomma di mettere un piccolo segno musicale su questa pausa per richiamare però già lo immagini come potrebbe essere ecco perfetto grazie mille io ho questo vizio di parlare molto velocemente qui poi proprio per evitare di rubare tanto spazio agli altri ma è una no no ma qui non si ruba ho avuto un alunno che ha è sbagliato mi sono usata violenza per anni per 2-3 anni sono difficilissimo perché nella mia natura c'è questo voler parlare sempre velocemente comunque grazie un consiglio azzeccato un po' ti possiamo rallentare fino a un diciamo tra un 8 un 12 13% possiamo rallentare con di più no perché si sentirebbe però un po' lo facciamo tecnicamente un po' ce la devi mettere tu però diciamo non è un podcast da raccontare ecco quello del calcio magari in certe circolazioni non so mi immagino magari degli inserti Eusebio prende la palla e avanza sulla destra poi passaggio l'ala che ho sbagliato messiere sbagliato settembre 1952 siamo a un incontro storico decisivo per la storia del calcio ecco vedo la vedo bene una cosa di questo genere la storia in campo nel tuo caso no nel tuo caso bisogna seguire più un andamento più l'enfasi a ciò che si vuole dire dato proprio dalle pause da questo voler correre l'accento sul penitere secondo me poi bisogna vedere ma comunque secondo me grazie mille sì sì è un consiglio che seguirò grazie ma poi non abbiate paura a prendere diciamo spazio perché tanto magari non è neanche detto che riusciamo proprio ad esaminare tutti quanti poi ci affidiamo sul fatto che le persone ascoltando le nostre conversazioni poi si facciano venire delle idee e quindi poi applichino anche dei cambiamenti nel loro progetto lo scopo è questo ok per la settimana per la settimana a per la settimana a per la settimana Grazie a tutti.